I MEN E I DOMINATORI DELL'UNIVERSO Io sono Adam, Principe di Eterno, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krikker, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Krikker diventò il possente Battle Cut e io diventai I MEN, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Manet Arms e Urku. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di scheletro! Ha 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 ha! Krikker!